Oggi incontriamo Yorg Riommi ed è un piacere perché insomma è una storia che ci piace raccontare un creativo, tu hai occupato posizioni insomma top, grandi gruppi internazionali internazionali proprio perché dall'Italia sei andato all'estero, la tua carriera si è svolta lì ma oggi torni, che valore ha tutto questo? Innanzitutto buongiorno Monica, buongiorno a chi guarda e sì, torno in Italia dopo un lungo periodo all'estero di 15 anni per i quali ho lavorato per gruppi internazionali e agenzie internazionali sia in Europa che in Sud America, in Est Europa, in Germania e l'ultima posizione ricoprivo il ruolo di Chief Creative Officer per 14 paesi per diversi brand creativi di un gruppo famoso, diciamo conosciuto e torno in Italia con piacere perché credo nell'Italia e credo nel momento di forza che sta vivendo l'Italia nel mondo della creatività Hai nominato la creatività, oddio lo sai che a volte insomma sembra un po' di parlare di un tema d'Olenz, nel senso che vale ancora la pena di investire in creatività? Assolutamente sì, altrimenti non sarei qui, io credo fermamente nella creatività e credo fermamente nella creatività come volano per l'economia nel potere trasformativo delle idee e nella connessione appunto che le idee possono fare con clienti e il mondo del business diciamo In effetti appunto prima di questa chiacchierata registrata parlando ci siamo detti come poi tutte le ere, insomma i cicli e ricicli della storia Oggi secondo te in che momento siamo? Abbiamo visto come tutti i media diventano oggi digitali come ormai la tecnologia rischia di diventare un po' una commodity quindi è il momento del rientro della forza creativa C'è chi potrebbe essere scettico, però poi guardando in realtà nelle realtà internazionali che funzionano abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono agenzie creative che partendo da zero hanno creato delle strutture internazionali basti pensare per esempio a GATT o anche altri successi internazionali fondati da creativi, gestiti da creativi e che poi sono diventate delle vere e proprie creative hot shop multinazionali perciò secondo me lo spazio per la creatività c'è come sempre e forse c'è ancora più di prima chiaramente questo non significa trascurare il mondo delle AI non significa trascurare il mondo delle nuove tecnologie bensì abbracciarle e saperle gestire in un contesto appunto creativo Cosa hai imparato insomma nella tua carriera? Il fatto ad esempio, questo è anche un consiglio magari che puoi dare ai giovani di andare a lavorare all'estero, cosa dà in più? Anche poi che forza dà nel rientro? Per me è stata un'esperienza fondamentale andare fuori invito i giovani e chiunque sia agli inizi della propria carriera di sperimentare e di vedere altre cose perché confrontarsi con altre realtà è sempre un modo di arricchirsi innanzitutto e credo che poi tornare sia un'opzione o magari no, altri decidono di rimanere fuori nel mio caso invece c'è stata la scelta di rientrare per portare appunto l'esperienza e il know-how che ho imparato all'estero e vedere come può funzionare sul mercato italiano facendo di Milano una base internazionale per progetti italiani e per progetti anche internazionali beneficiando appunto della rete di contatti il network di talenti che c'è, che ho accumulato negli anni sia di talenti a livello creativo sia di clienti però anche con un tocco nuovo forse per il mercato locale ecco diciamo Mi sembra di capire che hai già in mente una tua avventura imprenditoriale qui Sì, la stiamo definendo, la stiamo creando credo che, a parte puntare ancora sulla creatività cosa che qualcuno potrebbe pensare non possibile ma io vengo dal motto famoso che ho seguito negli anni che è Nothing is Impossible ci credo fermamente credo nel valore business della creatività credo nella visibilità che l'Italia può avere nel mondo credo in un prodotto di eccellenza e soprattutto credo in un modo di fare che sia diverso secondo me possiamo offrire un'alternativa con quello che costruirò al modo di fare per esempio io non adesso come adesso forse è quasi più importante definire quello che è importante non essere piuttosto che quello che è importante essere perché adesso come adesso con tutte le possibilità creative che ci sono chiunque può fare qualsiasi cosa allora diventa importante sapere cosa non fare e credo che sia importante posizionarsi anche da un punto di vista etico per esempio per esempio non abbracciare la cultura del burnout non abbracciare la cultura della spremitura lavorare in maniera felice con gente felice con talenti che siano soddisfatti del dove lavorano e come lavorano perché questo poi investire sulle persone e sul modo di lavorare fair diciamo poi porta risultati migliori porta la vera eccellenza creativa anche dal punto di vista diciamo etico e lavorativo nel progetto che hai in testa tra le cose che non vuoi essere e anche non vuoi essere un'agenzia sì io credo che adesso come adesso il modello dell'agenzia tradizionale sia ormai chiaramente sotto gli occhi di tutti che è un modello obsoleto perché è un modello lento pesante costly cioè io credo che in realtà adesso come adesso i clienti cerchino un modello che sia più a contatto diretto con chi poi fa il lavoro io ho questo motto che è less blah more do meno chiacchiere più fare per me la cosa principale è sempre il lavoro è quello che produci e per produrre lavoro eccellente ci vuole bisogna accorciare la distanza tra il creativo che porta il prodotto e il cliente che lo approva facciamo un lavoro più di equip a giro stretto diciamo e trovare dei referenti che vogliono quello che vuoi un pochettino come feci con Fernando Maciato e Burger King quando creiamo insieme Moldi Whopper l'avere la possibilità di lavorare con la persona che poi decide sì o no lo facciamo e come è fondamentale per poi produrre delle campagne che sono eccezionali ecco che tornano al cliente che tornano ai creativi che tornano all'investimento insomma di credibilità e di fiducia che è stato fatto ecco nel tuo progetto mentale insomma per ora che ruolo avrà la produzione anche anche questo fa parte dell'equazione produzione in questo momento per me nella mia visione ha due anime una è l'anima tradizionale l'altra è l'anima AI che si sta sempre più affermando perché adesso chiaramente lavorando già con Stable Diffusion o Mid Journey tu puoi produrre dei contenuti che sono veramente di grande qualità già investiremo su questo nel futuro senza tralasciare l'anima diciamo del craft tradizionale che chiaramente qui in Italia ha dei pinnacoli elevati che ci invidia tutto il mondo e che forse noi siamo ancora troppo timidi a proporre fuori come potremmo invece proporre come dovremmo proporre tramite i contatti che per esempio potrei portare ecco insomma mi sembra di capire che anche se non lo vuoi ammettere la tua idea mentale di quello che vorrai realizzare è già abbastanza avanti quindi non mancherà molto che ci svelerai cose ulteriori però ti volevo chiedere ecco cioè tra gli ingredienti il contatto con i talenti il contatto con i CMO l'affinità con qualche casa con qualche produzione con qualche casa di produzione e poi se tu potessi fare una call to action cos'è che stai cercando ancora per finalizzare il tutto quello che sto chiarendo in questo periodo è capire se farlo fare il processo bottom up o top down credo che chiaramente se ci fosse una realtà di venture capital o di investor che potesse essere interessato in un progetto di questo genere con un team di creativi strategisti account director forti abituati a progetti globali che hanno avuto un track record di successo con clienti internazionali possa trovare il motivo per investire e per partire dall'alto partire già con le spalle larghe questo ci permetterebbe chiaramente di approcciare il discorso in maniera diversa senza doverlo costruire dal basso che potrebbe richiedere più tempo perciò se siete lì e state ascoltando la cosa vi stuzzica reach out a me o a Monica e niente parliamone che che Grazie a tutti